Sono qua anche perché è certamente un piccolo gesto, ma è anche la consapevolezza che chi amministra la città poi ha bisogno di qualcuno che dia la mano. E l'opera San Francesco lo fa. E poi anche un po' il fatto che, per esempio, questo è un quartiere certamente ricco e vuole essere anche un invito, a volte essere tolleranti rispetto a qualche disagio, che possono portare queste povere persone in fila. Però c'è la necessità di aiutarli, per cui è un po' l'idea di una tale dove bisogna mettere un po' insieme la sofferenza e l'aiuto. Sono stato a Aniguarda a portare dei doni ai bambini, anche lì c'è la sofferenza e c'è l'aiuto di questi medici preoccupati quanto noi, attenti alle regole e che fanno la loro parte.